La grande crisi economica globale in atto in tutto il pianeta, ma marcatamente nelle società occidentali, in quelli che una volta la nivano definiti come i paesi industrializzati, ci sta dimostrando che l'Occidente può uscire da questa profonda crisi economica, che è diventata anche una profonda crisi sociale, soltanto puntando su un grande salto tecnologico, cioè sulla innovazione dei processi produttivi, sulla innovazione della tecnologia e quindi innovazione anche della capacità produttiva. Esperienze come questa organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale vanno appunto nel segno del rafforzamento di una cultura tecnologica, perché soltanto avendo una cultura tecnologica di base, noi siamo in grado di far uscire fuori quei germi dell'innovazione che possono aiutare anche la ripresa economica del paese.